Buonasera e benvenuti a un nuovo numero di replay Dallo studio centrale di TV6 sono le ore 21 Il Pescara senza strafare conquista la prima vittoria in trasferta di questo campionato Con un gol nel finale di Galano Una vittoria però pagata a caro prezzo Perché due giocatori hanno subito degli infortuni molto seri Diciamo subito che per Marco Tuminello L'attaccante che ha realizzato il primo gol della partita su rigore Le notizie non sono affatto positive Perché ha subito una lesione del legamento crociato anteriore E menisco esterno del ginocchio sinistro Quindi dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico Mercoledì sarà a Roma a Villa Stuart dal professor Mariani Si prevede una lunga assenza di 6 o 7 mesi Però più tardi ci informeremo nel dettaglio Infortunio anche per Luca Palmiero che ha subito una lesione di primo grado All'inserzione femorale collaterale mediale del ginocchio destro Dovrà stare fermo un mese Due gravi assenze per il Pescara Soprattutto per il giovane Tuminello Che subisce il secondo infortunio grave della sua carriera Il primo quando militava nel Crotone Aveva subito anche un intervento al crociato del ginocchio destro Questa volta tocca al ginocchio sinistro Ovviamente facciamo gli auguri di prontissima guarigione Sia a Tuminello che a Palmiero Il Pescara dunque conquista la seconda vittoria consecutiva Dopo il Pordenone-Spugna-Cosenza Un campo difficile Si interrompe una tradizione negativa È stata una partita dura sul piano agonistico Gran carattere da parte degli uomini di Zao Certo non è stata una bella partita sotto il profilo tecnico Ne parleremo con Antonio De Leonardis Bentornato Totò dopo la lunga vacanza in Sardegna Beh come insomma Due settimane Totò Comunque un bentornato Grazie, grazie Bentrovati Al suo fianco abbiamo Francesco Di Francesco Buonasera a Francesco Che è sempre in vacanza Quindi lo possiamo dire Quindi Vedi che non devo partire È un ben rivisto all'allenatore della squadra di pallanuoto di Pescara Buonasera Paolo Malara Buonasera 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 Siposissimo del Pescara Da lunedì si ricomincia Almeno ce l'auguriamo a lavorare alle naedi Facciamo i debiti scongiuri Vero Paolo? È vero È vero Qui al mio fianco ritrovo con piacere anche Luca Pennese Buonasera Luca Poi c'è il presidente della squadra femminile di Pescara Il presidente Andrea Cicconi Buonasera Andrea ben rivisto E un bentornato anche a Riccardo Clicco Buonasera Riccardo Buonasera a te Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini Andrea buonasera Buonasera Enrico Buonasera a tutti i nostri amici da casa È una serata piena di partite Una per categoria professionistica Perché in Serie A si sta giocando Torino-Lecce 0-0 il parziale Gara iniziata alle 20.45 Mentre alle ore 21 È iniziata dunque da qualche minuto Il posticipo di Serie B Terza giornata di campionato Staternitana-Benevento 0-0 chiaramente il parziale Mentre in Serie C Si sta giocando il big match allo stadio San Nicola di Bari Girone C di Serie C Bari-Regina 0-1 Rete di Corazza all'ottavo minuto A te Grazie Andrea Un saluto ovviamente anche a Maurizio Dagui in regia Questa sera Loris Bennato ci ha proposto il titolo Pescara senza Tuminello Perché sarà un'assenza pesante Quella dell'attaccante bianco-azzurro Che stava andando benissimo Sia in under 21 Sia con il Pescara Tra poco effetteremo un collegamento con il professor Vincenzo Salini Certo è una vittoria pagata a caro prezzo No Totò Sì Una vittoria sempre pesante Perché fa morale Permette al Pescara di continuare questa crescita Però ecco restiamo su questo infortunio di Tuminello Che a questo punto crea delle problematiche a Zauri Anche se le alternative restano sempre quelle di Brunori e di Maniero Sì sì no ma appunto la Tegra è proprio questa Intanto la legge ci può far rivedere quell'immagine dell'infortunio Sono due infortuni Cioè molto molto serio quello di Tuminello Ma preoccupante anche quello di Palmiere come hai detto tu Quindi sono due infortuni che pesano parecchio Una squadra che insomma adesso si stava assestando E sta ancora facendo questo lavoro Questo percorso di assestamento Tra l'altro l'ha fatto con due vittorie Insomma è un momento particolarmente favorevole direi Quindi questi grossi intoppi ovviamente hanno un peso notevole per questa squadra Come hai detto tu le alternative ci sono C'è Brunori, c'è Maniero per Tuminello Però insomma il campionato 6-7 mesi Questo ragazzo lo perde Un ragazzo che insomma ha fatto i golli Ecco ci sono state delle proteste soprattutto per il campo Che da anni a Cosenza crea delle problematiche Ritieni vedendo così l'immagine che ha contribuito questo terreno di gioco Secondo me sì, secondo me sì Abbiamo visto adesso questo contrasto di Palmiero Lui è caduto male proprio sul terreno Tuminello Sì sì anche quello di Tuminello Si è impuntato proprio perché Eccolo qua Lì proprio sul terreno perché non c'è stato il contrasto con il giocatore Però si è capito subito che era un infortunio serio Certo subito perché il ragazzo è rimasto a terra La preoccupazione è stata immediata Poi purtroppo le notizie successive hanno anche diciamo peggiorato la situazione Per quello che si poteva capire Lo stesso si può dire anche per il portone di Palmiero Che è stato molto più o meno non dico simile Però anche quello Lì c'è stato anche il fallo Anche il fallo però anche lì il terreno ha contribuito Francesco quindi peccato per Tuminello Perché come ho detto in apertura Sia con l'Under 21 sia con il Pescara Aveva trovato questa via del gol facilmente Anche l'Under 21 non giocando titolare Però due partite e due reti Due assenze Una lunga e un'altra lunghissima Auguriamoci di poterlo rivedere per Tuminello Di poterlo rivedere per i playoff Per il Pescara e per il bene del ragazzo Ragazza a quale ovviamente vanno tutti i nostri auguri L'imbocca al lupo Sono due assenze pesanti Se vogliamo forse per le alternative che ci sono Io credo che sia più pesante quella di Palmiero Perché Tuminello stava giocando bene Aveva preso confidenza con il gol Non mi si venga a dire ma è su rigori I rigori bisogna segnare E' sempre meglio ricordarlo A quelli che vogliono sempre fare polemica Ma quella di E quindi per Tuminello Le alternative ci sono Perché Maniero e Brunori Danno ampie garanzie Certo è una scelta in meno Anche a centrocampo ci sono le alternative Però credo che uno proprio con le caratteristiche di Palmiero Non c'è ma soprattutto Palmiero era destinato a una crescita costante E adesso questo stop di un mese Poi ricominci in un ruolo talmente importante Determinante per come vuole giocare Zauri Ecco rivedendo l'azione E' un grave handicap Qui c'è stato l'intervento sicuramente Beh sì l'abbastanza duro Però ce ne sono tanti di interventi così Poi quando deve Il fatto chiamiamolo così Quando deve succedere succede I contrasti del genere Se ne vedono tanti nel corso di una partita Anzi certe volte pure più dure e più cattivi Allora abbiamo la possibilità E lo ringraziamo Di sentire al telefono Il professore Vincenzo Salini Primario al San Raffaele di Milano Buonasera professore Grazie per aver accettato il nostro invito Buonasera a tutti Buonasera a voi Allora professor Salini Oggi è arrivata questa notizia Dell'infortunio di Tuminello Oltre a quello di Palmiero Lei ci conferma Quindi questa diagnosi È una grave situazione per Tuminello Soprattutto per lui Che è al secondo infortunio grave Della carriera Eh sì Purtroppo sì Gli esami Gli anni seguenti Che sono stati eseguiti oggi Hanno confermato la diagnosi Presunta ieri C'era il dottor Abbate Che era giù a cosenza con la squadra E che io sinceramente Guardando la dinamica in televisione Non ero Non ero ottimista più di tanto Ecco Perché la dinamica è proprio Tipica di lesioni del crociato anteriore Ecco a proposito delle immagini Proprio poco fa Abbiamo rivisto l'azione E dicevamo che Il terreno di gioco Ha creato questa problematica Perché non c'è stato contatto Con l'avversario No no Assolutamente Assolutamente no Diciamo che si è fatto male da solo Ma in realtà Un po' il terreno di gioco Un po' anche la tipologia Proprio dell'atleta Che gli atleti che hanno Sono delle tendenze di nocchia Delle mentalmente male Che sono più predisposte A questo tipo di lesione Ecco Ci conferma Che i tempi di recupero Sono sui 6-7 mesi O c'è una prospettiva diversa? Ma diciamo che A voler essere ottimista Sono 6 mesi Perché comunque Sono 4 mesi Per il recupero Diciamo più o meno Recupero anatomico Dopo la ricostruzione del crociato E poi consideriamo Altri due mesi Per rimettersi proprio in pista Ecco 6 mesi Possiamo considerarli Per giocare Ecco Per un ragazzo Di quell'età Subire Un infortunio Un secondo grave Infortunio Perché la precedente volta Come abbiamo detto In apertura Con il crotone Lui ha subito lo stesso Infortunio Almeno crediamo Al ginocchio destro Può essere Può condizionare Un po' La carriera a breve termine Cioè In questi primi anni Ma io Non credo Perché comunque La fine È una situazione Non dico Usuale Frequente Però una situazione Non così infrequente Dipende molto Dall'atteggiamento Del ragazzo Il ragazzo Per quel po' Che l'abbiamo conosciuto Sembra un ragazzo Molto determinato Molto volenteroso Quindi io sicuramente Non mi sembra Un atleta In grado Di avere problemi Di questo tipo Ecco Quindi sarà sottoposto A intervento chirurgico In settimana? Sì Io penso di sì Penso che lui Da quello che Dalle notizie Che trapelavano oggi Penso che Direcchi a Roma Dove era già stato Operato all'altro All'altro ginocchio Quindi Per lo meno Per Palmiero Si parla di uno stop Di circa un mese È così? Sì Si Palmiero La dinamica è stata Completamente diversa Perché è stato Un contrasto Con un avversario Ha avuto Un trauma Diciamo In baltismo Il ginocchio C'è un po' Averso Ha avuto Una lesione Di primo grado Del collaterale Interno Che però Comunque È una lesione Che richiede Almeno 4 settimane Per poter Anche in questo caso Essere pronto Insomma È stata una vittoria Pagata a caro prezzo Quella di ieri A Cosenza Molto a caro prezzo Campagnaro Meno grave del previsto No Campagnaro Niente di che Niente di che Per fortuna Non ci sono altri Allarmismi No 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 Diciamo Tutte situazioni Assolutamente Gestibili Quindi per concludere Ieri Lei ha già capito Guardando la partita Che questo Si Il trauma Del ginocchio Perché Quando Diciamo È tipico La stessa dinamica Che ha avuto anche Melegoni Quando si decimava Il nazionale Che il medico Della nazionale Mi inviò un video È stata esattamente La stessa dinamica Di Tuminiello Quella è proprio La dinamica tipica Per le lesioni Del scrociato Ecco professore Prima di salutarla Totò Deleonardis Giustamente Mi sollecita Questa domanda Le condizioni Di Ciocev E Melegoni Che Sono nella fase Di recupero A che punto siamo? Allora Melegoni Diciamo che Ci siamo Quasi Anche per lui Ha già iniziato La fase Di riatrizizzazione Abbiamo avuto Dei video Della corsa Del calcio E quindi Diciamo che Quasi pronto Per rientrare In gruppo Diciamo ottobre Io penso Io penso di sì Ciocev Penso che dovremmo Aspettare un po' Di più E diciamo Per essere Proprio tranquilli 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 Penso dopo la Sosta natalizia Quindi Anno nuovo Insomma per Ciocev Penso di sì Penso di sì Va bene Professore Grazie L'aspettiamo Quando è a Pescara Volentieri Nel nostro studio Grazie Per questo contributo Saluto a tutti Grazie Ringraziamo il professore Salini Allora c'è poco Da aggiungere Ciocev Sì Vabbè Ciocev si sapeva Sì però Si pensava che magari Per verso Dovembre Primi di dicembre Vabbè Il professore Salini Ci ha detto gennaio Quindi Vogliamo parlare anche Di gennaio Parliamo di questa partita Dicevamo In apertura Non è facile Vincere a Cosenza Riccardo Hai visto la partita Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto Molto L'atteggiamento Della squadra Il carattere E la mano Di Zauri Si vede Sulla compattezza Della squadra La partita Non è stata esaltante Però devo anche Dirti Che giocavamo In un campo Dove abbiamo Sempre avuto Una tradizione Era un appoggio Il San Vito Perché il Cosenza Era già riduce Da una sconfitta Quindi Abbiamo fatto Una partita di carattere Una partita Che sono le partite Che Quando diventi squadra Devi Devi saper fare E quindi Ripeto Poi con Le varie assenze Che ci sono state Durante la partita Perché Zauri è stato obbligato A fare tre sostituzioni Su tre Obbligate Quindi Comunque Sono andate bene Ma E devo dirti Che anche le tre persone Che sono entrate al posto Dei tre Che sono stati sostituiti Hanno giocato molto bene Quindi vuol dire Che il lavoro Di Luciano Ci sta facendo vedere Perché Quando Dalla panchina Entra qualcuno E entra subito Nei meccanismi Gioca bene E non fa sentire L'assenza Di quello che è uscito Vuol dire che la squadra C'è Sentiamolo subito Zauri E poi commentiamo Le sue dichiarazioni In studio Andiamo a sentire Zauri Sì Noi Dobbiamo crescere Dobbiamo crescere Tutti i punti di vista Abbiamo fatto vedere Dei problemini Nella prima partita Nella prima uscita Che erano Quelli di compattezza E quindi Dobbiamo cercare Di trovare Un giusto equilibrio Che chiaramente Per quanto mi riguarda Non dovrà essere Quello di oggi A prescindere Perché comunque Abbiamo bisogno Di andare in avanti Di provare a giocare Di fare altre cose Però spesso nel calcio Bisogna fare quello che serve Oggi serviva Una partita di carattere Di grande voglia Di soffrire I ragazzi L'hanno messa tutta E poi alla fine La loro grinta La loro voglia È stata premiata Appunto con il gol Nel finale Dopo l'infortunio Di Tuminello In campo Maniero E no Brunori Perché? Ma Sono due giocatori Che meritano Sia Maniero Che Brunori Settimana scorsa È entrato Brunori È una scelta Dettata anche dal momento Volevo Volevo giocarmi La carta Maniero Da ex Un po' di spirito Di rivalza Quindi oggi Maniero Ha fatto bene La sua parte Così come gli altri Allora queste Erano le dichiarazioni Di Giavoli Luca Che partita Hai visto tu? Sì La mia amore Si ricarica quella Di Riccardo Partita molto Attenta Determinata In cui il Pescara Ha interpretato Quella che era La battaglia A cui è andato incontro Mi piacciono Queste dichiarazioni Di M. Che dimostra Che dimostra equilibrio Anche nel post Partita È una sottigliezza Che mi piace Sottolineare Il fatto che lui Ha elogiato Ha messo davanti La squadra Ha parlato del carattere I ragazzi Della determinazione Della volontà Di raggiungere Il risultato Credo che sia Sintimo di intelligenza Bisogna provare A giocare Ma se alla fine C'è un'altra necessità Bisogna capire Cosa fare In alternativa Anche al Gioco propositivo La qualità C'è Un merito Che se tu adesso In questo momento Pescara Ovviamente In un percorso di crescita Da 1 a 10 Non so quanto possa essere Comunque sta Cercando di immagazzinare Un cambio epocale Rispetto al Pescara Dello scorso anno Si è passato Da un tecnico Che aveva Una Mentalità Un po' Conservatrice Ad uno che vuole Proporsi Però il passaggio Non può essere Immediato Quindi il fatto Poi Della scelta Di maniero Va a sottolineare Anche Dopo ne parliamo Della scelta di maniero Intanto Analizziamo Gli episodi Un po' chiave C'è questo intervento Di Sciaudone Su Di Grazia Che procura Il rigore Grandi proteste Da parte Del Cosenza Paolo Malara C'era il rigore Anche se Di Grazia Un po' Se l'hai cercato Non c'è il VAR Quindi Però c'è Dubbio Un po' in dubbio Con la gamba A destra Va a cercare Il contatto Con il giocatore Poi alla fine Rigore Però Ci poteva anche stare L'arbitro Forse è stato Ignannato Ci poteva anche stare Francesco Secondo me Il rigore Perché lui è davanti Al giocatore Del Cosenza Che deve cercare Lui Allarga Se quello si ferma Prima Allarga La gamba Quello Secondo me È il movimento Suo Della Corsa E comunque Il rigore Visti che a Cosenza Che non è il rigore Oggi hanno scritto Anche quelli bravi Le pagine nazionali E tutti i resti È il rigore Punto Totò Sicuramente Ci può essere Questa piccola malizia Che comunque Lui abbia allargato La gamba Però Il fallo c'è Voglio dire In diretta Come lo vedi C'è il contrasto C'è il contrasto Comunque ha fatto Un gran movimento È un rigore Che si può dare In mezzo a due Bravo Sì sì L'80% Lo dai Quel tipo di rigore Luca È un rigore Che in presa diretta È apparso Lampante Poi rivisto Si può discutere Sul fatto che Si è stato di grazia Ad allargare Leggermente La gamba A destra Ma credo che Comunque la decisione Immediata Sia legittima Non si può condannare L'arbitro Per aver fischiato Quei rigore Certo Dobbiamo anche dire Che se A parte invertire Se quel rigore Dovessimo subito Un pizzico Di rammarico Ci sarebbe Il rigore Il rigore È quando Arbitro Fischia Sempre No Riccardo Rigore A velocità Normale Un arbitro Da rigore Tutta la vita Perché Io quando Lo avessi in tv Ho detto rigore Immediato Poi se lo vedi A rallentatore Come dice anche Luca Si allarga un po' Però È rigore C'è il contatto Più grave Più grave Questo Come Rispetto al rigore Il fatto che lì C'era il fallo precedente E quindi L'azione Andava fermata prima Poi nasce Nasce il gol Diciamo a vedere L'azione Siaudone è stato Stato molto bravo Gran tiro Penso che fosse Ecco Cioè lì c'è proprio Il fallo Il fallo Il fallo Il vicino Eh sì Esatto Da lì Poi lui Insomma Questo è da munizione Scusate Viene a martello Sicuramente Molto Il danno procurato C'è Molto più grave Del rigore 100% Poi c'è il gran tiro Di Ciaudone Esatto Tutti d'accordo Su questa azione Mette il piede a martello Il centrocampista Del cos'è Che ha ripagato Un po' Delle Probabilmente Condizionato Inconsciamente Anche il direttore Chiudiamo con La perla di Di Galano Lì è stato bravissimo Castanos Eh Beh sì Questo ragazzo Insomma È la seconda volta Che lo vediamo È la seconda volta Che è alla fine Determinante Perché anche Con Poi di prima Delone Sì Ma lì è stato Un lancio bellissimo E poi Galano Ha fatto il resto Ma la grande Pensiamo che siamo Agli sgoccioli Della partita E lui parte molto bene Tra i due Controlla Insomma Un gran gol Un gran gol Da attaccare Una bella azione Perché merito di Castano E poi Galano Io credo Veramente bravo Ma anche Con Pordenone L'ha fatto Sì C'è un altro giocatore Di Pescara Adesso non mi ricordo Il nome Del Verona Che ieri Ha sfiorato Un gol simile Verre Verre Che giocava Con Pescara Ha fatto uno stop Bellissimo Peccato Però veramente Peccato Meglio No per lui Per lui Bisogna essere sportivi Cioè come Magari non era Magari Magari Non era rigore Magari era rigore Comunque ha fatto Ha fatto Si è inserito In mezzo a due giocatori Ha fatto un movimento Straordinario Sì Dicevi Totò No dicevo Tra le Abbiamo parlato Poi delle negatività Voglio dire Questi 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 Infortuni Veramente pesanti Però io ci metterei Anche delle novità Interessanti Cioè Questo Castalos Credo che In questo momento Anche per l'infortunio Di Palmiero Sia un giocatore Molto importante Per il centrocampo Del Pescara Io non l'avevo visto Qualche anno fa Quando è stato Sì è tornato Anche fisicamente Esatto È un altro giocatore Adesso è un giocatore A qualità A talento A corsa A al piede Perché Anche col Pordenone L'ha fatto anche lui L'azione decisiva E l'altro Utilizzato sicuramente Di più Esattamente Io credo che a questo punto Castals possa avere Ma io penso che L'avrebbe avuto Anche con Palmiero Ancora È effettivo Perché in effetti Lui in questo momento Tra i centrocampisti Sicuramente L'alternativa A Macino C'è Perché E poi Voleva aggiungere Un'altra cosa L'altra cosa Molto molto importante È il recupero È il recupero di Vitturini Questo ragazzo Che era stato Quasi buttato via È stato Tra i migliori in campo Ieri Vitturini Sicuramente Sì È stato proprio Con la sicurezza La tranquillità Abbiamo rivisto Il Vitturini Che avevamo visto All'inizio della sua carriera Quando ci aveva impressionato Durante l'anno di 8 Esattamente Poi purtroppo Dopo ci torniamo Su Vitturini Anche su Drudi Che ha avuto un ottimo impatto Sulla partita Ma Galano Ve l'aspettavate Così Pimpante Galano Ha delle grossi doti Tecniche È entrato subito Se posso dire a volo Sì Se ti apriamo gli altri Dopo torno a te Luca Intanto Se posso dire Galano È un giocatore Che ha fatto benissimo Ti assomiglia anche Questa folta capillatura Esatto Non so Ma la pancia Lui sta Quando è arrivato Forza aveva un paio di chili In più Però a parte questo È un giocatore Che va Un tre virgolette Coccolato È un giocatore Che si deve sentire importante A Bari lo era E ha fatto benissimo È andato in altre piazze Magari ha avuto Qualche difficoltà È un piccolo Un aneddoto Quando Negli ultimi giorni Del calcio mercato Stavo pensando Di prendere Brignola Qualcuno Dello staff tecnico Del Pescara Ha valutato Il fatto Che mettergli Brignola Nello stesso spogliatore Potesse creargli Delle pressioni In più Rispetto a quelle Che c'erano Non è arrivato Ma questa sarebbe una nebolezza Però per Galano Però ci sono Questi giocatori Che magari Per esprimersi al meglio Devono sentirsi Impollidoli Il fuoricrassi allo spogliatore In questo contesto Lui lo è E sta ripagando Con i fatti Che ha avuto Questa intuizione Riccardo Credo che sia un giocatore Di categoria superiore Da come si muove Da come Dalla drinta Che ha Non molla mai Corre Lotta Mi piace moltissimo E' proprio Un giocatore Poi tre gol In tre partite Si ma anche Come difende la palla C'è un giocatore A me piace veramente Tanto Al momento che l'ho visto E' veramente Un giocatore Che Questo è un gran gol Questo è un gran gol Un gran gol Su un gran passaggio Si Si L'abbiamo detto Di prima Lui ha fatto Un bello stop Si è allargato Ha tirato forte Un bel Forte Proprio forte Paolo Sugalano Giocatore che Un po' tutti Conoscono Non è più giovanissimo Però Lui E' Un po' Giocatore Che ti fa vedere Grandi cose Poi Non è molto costante Lui si arrabbia Quando Gli si affibbia Quest'etichetta Però in verità Nell'ultimo anno Soprattutto a Foggia Ha avuto un rendimento Non sempre costante Ora Si sta riscattando Alla grande Sicuramente Si è integrato Benissimo Qua a Pescara E questa non è una sorpresa Ma Sabato Sabato scorso L'ho visto contro Pordenone E veramente Mi ha impressionato Ha qualità Tecniche È propositivo Non ha paura Secondo me Ha fatto veramente Un grande acquisto Pescara Può portare Veramente Qualche cosa in più Francesco Non ti sorprende? Non può sorprendere State parlando Di Galano Come se La prima volta Un ragazzo 20 anni Galano Non ti sorprende Quest'inizio Da parte sua No Ma poi stiamo parlando Di un giocatore Che Vabbè L'ultimo anno Non è andato bene Ma nella carriera Di un giocatore Ci può stare Un anno No Due sì Poi due no Non è difficile Trovare un giocatore Che dieci anni Gioca sempre Per lo stesso livello E Galano La settimana scorsa Che lo diceva qua Il Ribery Della Puglia Robben Della Puglia Va bene Il Robben E' lo stesso Robben Robben è tutto sinistro Come lui Ribery E' destro Anche perché si assomigliano Bravo Esteticamente Beh insomma Robben un po' più Anche O Robben sì 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 Ma come un Non è un problema Si assomigliano E' un giocatore Che è sempre fatto Bene A qualità Ha Ha il senso Del Del gol Il fiuto Di andare a colpire L'avversario Nei 16 metri Quindi c'ha Tante di quelle qualità Che ripeto Secondo me Non c'è da meravigliare Dipito Bene Ha lavorato bene Il Pescara Il Zauri A metterlo subito In condizione E' bravo ovviamente Galano No a parte Io vorrei ricordare Che dopo la prima puntata Che abbiamo fatto Galano era uno Dei più contestati Io Da parte di chi? Da parte del pubblico In particolare Dopo Dopo la prima partita A Salerno Eh sì E Sopi Anche ieri Qualcuno ha contestato La prestazione Sì no voglio dire Però io vorrei ripetere Che io Quel giorno Dicevo appunto Che Galano E' il giocatore più importante In chiave offensiva E' il giocatore più importante Del Pescara Lo sta dimostrando Ma a parte quello che penso io Oggi parlavo appunto Con Andrea Camplone Tra l'altro ha vinto Ha vinto Con Catania Ha vinto ieri E si trova in lotta Sempre per la promozione Che l'ha avuto L'ha avuto a Bari E mi ha detto più o meno Quello che sosteneva Luca Che cioè Che è Un giocatore Che ha bisogno Di avere l'attenzione Cioè che soprattutto Nel Sentire la fiducia Nel Sentire la fiducia Dell'allenatore Dell'ambiente Proprio di questo particolare Tra l'altro lui non l'ha visto Lui l'ha avuto a Bari Ha avuto Può essere Può essere il difetto Può essere quello Però quando sta C'è un'attenzione C'è un'interesse E' un grandissimo giocatore In quel caso L'allenatore cosa deve fare Paolo? I giocatori sono tutti importanti Se vuoi lavorare Sono tutti Sono tutti Più deboli caratterialmente No? Ebbè Chi fa questo mestiere Se ne accorge Ha bisogno di Ci sono dei giocatori Che hanno bisogno Di più di attenzione Di altri Però Cioè devi essere morbido Con lui Oppure il contrario Sono le situazioni Tu che faresti? Tu parliamo di malare Se adesso Mi galano In vasca L'importante È che ha una buona attitudine Sul lavoro Questo di sicuro Poi Se si impegna E ha una buona attitudine Alla fine Le qualità escono Se vuoi tirargliele fuori Escono Se vuoi andare in contrasto Fai un danno alla squadra A te stesso E al giocatore Cicconi Stesso discorso Con una ragazza Debole caratterialmente Lei come la gestisce? Io credo che in questo momento Tu non sei presidente No Ma si sta un po' Nervosendo Calano a casa Adesso Molto forte Che ho preso quest'anno Così mo' l'anno Anche con le compagne Cioè nel senso Che ho chiesto Espressamente Alle più mature Veterane Di dare una mano Psicologicamente A questa ragazza Perché lei Ci può dare Una grossa mano Andiamo a sentire Proprio Galano Che parla sempre Di gruppo Che si è inserito bene Quindi come diceva Paolo Fa tanto Questo calore Dello spogliatorio Il microfono Di Paolo Renzetti Hai eguagliato Il record di gol Dello scorso anno È già tanto Ah sì sì Sicuramente Niente Sono contento Di questo gol Soprattutto Perché ho portato A casa Una grandissima vittoria Su un campo Veramente difficile Abbiamo sofferto Fino alla fine Siamo stati bravi lì A essere Compatti Tutti insieme Abbiamo portato a casa Questa grandissima vittoria Ora Siamo tutti contenti Dobbiamo continuare così Lavorare Con grandissima umiltà Come dico sempre E andare avanti Ce lo racconti un po' Questo gol C'è stata l'imbucata Da parte di Castanossa E poi hai fatto tutto tu Sì sì Io Quanto vedo Che posso Bucare Vado Quando posso Andare Vado subito Infatti È stato bravo lui A guardarmi A darmi quella grandissima palla Io Non dovevo fare altro Che Mettere le rete Ci sono riuscito E sono Super contenti Peccato per quel gol Fallito invece Nel primo tempo Tutto solo Davanti a Perina Cosa è successo? No Io volevo stopparla E piazzarla Poi quando ho stoppato La palla L'ho stoppata Un pochettino male Mi si è annebbiato Un po' Gli occhi E quindi Ho calciato malissimo Però sono stato bravo Comunque A rimanere in partita Concentrato E alla fine è arrivato Questo grandissimo gol Che ha portato a casa Questa grandissima vittoria Quale Robben Francesca Chi assomiglia Dillo A che cosa l'ho Comunque mi sta simpatico assai Spondano E genuino Questo giocatore Che può fare Finita la cosa Hanno dato un'impronta A questa gara Ma poi capiremo Quali sono ancora Le cose da migliorare Perché il Pescara Pensate All'attacco Che ha segnato di più In Serie B 7 gol L'attacco più quotato Però ha subito Tante reti 6 La peggior difesa Dietro alla Cittadella Che ne ha subiti 7 Quindi 6 gol subiti Insieme a Trapani E Cremonesi Intanto abbiamo L'attacco migliore Pubblicità Se cerchi qualità Assortimento E il miglior prezzo Notti d'oro A Montesilvano Oltre mille metri quadri Di esposizione Di materassi E biancheria Per la casa Esclusivista Blue Marine Borbonese Luigi Bellora Bossi Fazzini Somma Piumini Down and Step Materassi Temple Dorelan Simmons Mistral Pirelli Permaflex E Letti Bontempi Notti d'oro Vieni a trovarci a Montesilvano In Corso Umberto 271 Telefono 085 44 58 973 Notti d'oro Materassi e biancheria Per sognare Dal 1970 Time Rivestimenti Offre compassione E professionalità Finiture ed interni Ristrutturazioni Adattamenti Ed adeguamenti Con la piena soddisfazione Della clientela Time Rivestimenti E' da sempre specializzata Nella fornitura di pavimenti Rivestimenti Controsoffitti E cartongesso Tendaggi Complementi D'arredo Finiture in genere E nella messa in opera Dei materiali Con personale altamente specializzato Da quest'anno Presentiamo anche L'outlet del pavimento Una novità unica nel settore Con vasto assortimento Di pavimenti Di ogni genere A prezzi di fabbrica www.timerevestimenti.it DZ Insurance Sport Oltre 25 anni di esperienza Nelle coperture assicurative Nel mondo dello sport Prodotti altamente mirati Per atleti professionisti Un team specializzato Per ogni disciplina sportiva O di qualsiasi altro settore A livello internazionale Questa è la DZ Insurance Sport Zampa corta Assicura lo sport Salve Sono Emilio De Florentis L'impresa funebre Della nostra famiglia Nasce nel lontano 1945 In una piccola bottega artigiana Nel cuore di Pescara Vecchia Dall'intuizione di mio nonno Emilio E del padre Emilio Da quel momento Da 72 anni La tradizione continua E dal 1995 Io e mio padre Alfredo Abbiamo aperto la nostra impresa Che a Pescara La sede in via Spaventa Nella zona dello stadio Adriatico Emilio e Alfredo De Florentis 085 66 021 Ti piace l'eleganza Ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale E cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli È quella che fa per te Una ricca esposizione di modelli Che spaziano dalla 500 500 X Panda Tipo Ed il ritorno del mito La nuova 124 Spider E poi lancia a Abarth E veicoli commerciali Inoltre La concessionaria Fiat Danelli Vanta un'efficiente officina Dotata di ricambi originali La concessionaria Fiat Danelli Ti aspetta in via Bovio 137 A Pescara Con ingresso In via Raffaello 30 Aperti anche il sabato Mattino E pomeriggio Aperti anche il sabato La concessionaria Fiat Danelli La concessionaria Fiat Danelli Grazie a tutti Sulle condizioni di Tuminello ci ha informato anche il professor Salini, proprio oggi in giornata Andrea si è fatto vivo sui social, no l'attaccante? Assolutamente sì, affrontando con buono spirito questo brutto infortunio e ricordando anche quello che è stato il precedente che lo ha riguardato. Ha realizzato prima una cosiddetta storia su Instagram e poi poco fa ha realizzato un post sempre su Instagram, possiamo vederlo in questo caso. Ecco qui, allora lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, esattamente due anni dopo si ripete. Mercoledì affronterò di nuovo questo percorso di recupero nel migliore dei modi come ho fatto la prima volta. Dispiace per un ottimo inizio di stagione ma fa parte del gioco. Ora testa bassa e andare sempre più forte, vi lascio con una bella, poi il post prosegue. Se possiamo guardiamo anche la storia fatta nel pomeriggio dallo stesso Tuminello dove dice vi lascio con un ginocchio in meno e con un gol. Ora è tempo di mettere tutto alle proprie spalle, guardare avanti, mai mollare. Ci vediamo presto, forza ragazzi e soprattutto forza Pescara. Insomma, riesce anche un po' a ironizzare nonostante il brutto momento. Sì Andrea, ci aggiorni anche sui posticipi? Assolutamente sì perché in Serie A siamo all'intervallo. Lecce in vantaggio a Torino, 1-0 rete di Farias al 35esimo. Si sta giocando ancora il primo tempo a Salerno, 0-0 tra Salerno e Benevento. In Serie C è finito il primo tempo, Bari 0, Regina 1, gol di Corazza all'ottavo. A te. Allora, torniamo alla partita di Cosenza. Ok, grandi prestazioni di Vitturini, di Drudi che è entrato al posto di Campagnaro, di Galano che ovviamente è stato decisivo. Cosa c'è da migliorare in questa squadra che non piace a tutti? Evidentemente piaceva di più quella dell'anno scorso. Totò? Ma no, voglio dire, credo che sia da migliorare soprattutto nei tempi di ripartenza perché quello che è mancato diciamo nella partita appunto di Cosenza e dopo il vantaggio la squadra non è riuscita a proporsi, ad avere questa capacità ma credo che questo faccia parte del lavoro dei giocatori e dell'allenatore perché quello che manca è proprio questo nel momento in cui hai delle situazioni... è una squadra nuova perché sono otto elementi diversi rispetto allo scorso anno. Sì, sì, però l'obiettivo deve essere quello, cioè di avere maggiore forza propositiva nei vari momenti della partita, quello che lì stia lavorando e lì serve il contributo di tutti, anche dei difensori esterni, dei centrocampisti ovviamente che il lavoro non è così semplice, va visto, creo in prospettiva e mi fa piacere che questo sia l'obiettivo di Zauri, lo ha detto più volte, ha ripetuto anche ieri. Siete tutti d'accordo che è inutile fare paragone con la squadra la scorsa stagione perché era diversa, perché c'era un atteggiamento in campo diverso e poi ha dato anche dei benefici con dei risultati. No, no, però sono veramente due squadre diverse. Una filosofia diversa, no Paolo? Guarda, l'anno scorso, anche se lui non è contento, a me Pilon ha fatto un buon campionato, con la sua filosofia ha portato una squadra ai play-off, sfortunatamente non ha perso in semifinale, però ha fatto qualcosa di buono. Zauri ha un'altra filosofia, io ho visto la partita qua con Pordenone, veramente mi è piaciuto. Adesso ha giocato, diceva prima nell'intervista, che si propongono sempre come adesso vogliono tutti gli allenatori, però ha preso tre punti con un pizzico di fortuna, ma ha aspettato il momento per colpire, è stato molto bravo Galano a inserirsi e a trovare lo spazio. E quindi penso che piano piano, poi siamo alla terza partita del campionato, bisogna costruire, costruire, costruire. Poi lui ha la sua prima esperienza da professionista, quindi anche lui ha bisogno di fare esperienze per essere un po' ripetitivi. Certo, comunque è stato un grande giocatore. Sì, non sempre i grandi giocatori riescono. Sì, però si vede che c'ha… Eh certo, infatti la scelta di Maniero di metterlo in campo ieri l'ha motivata perché era il grande ex, quindi aveva voglia di rivalza, non perché fosse più di Brunori, perché in quelle occasioni le motivazioni fanno tanto. Secondo me l'aspetto, uno degli aspetti, forse anzi l'aspetto più importante e più ben augurante per il proseguo del campionato, debutta Vitturini, gioca bene, entra Drudi, gioca bene, entra Castanossi, gioca bene, la scorsa settimana Masciangelo esordisce bene, entra Brunori con il Pordenone e entra subito nel vivo della partita. Qui secondo me sono aspetti, di grazia, sono tutti aspetti, sì però Masciangelo dall'inizio dico, però sono questi giocatori che entrano e sono, come devo dire, determinando comunque entrano subito nel vivo della partita, i 20 minuti che fanno non sono 20 minuti così, tanto per essere presenti, fa parte fino adesso del buon lavoro svolto da Zauri, perché sono giocatori ugualmente in condizioni e subito pronti mentalmente e questo, correggimi se sbaglio, è il lavoro dell'allenatore durante la settimana. Sicuramente lui farà questo grande lavoro, prima dicevi Galano che ha bisogno, ci hanno tutti bisogno, lui è sicuramente molto bravo e sono tutti pronti per giocare, questa è una cosa molto importante. Il fatto ha dimostrato, non so se siete d'accordo, di saper leggere le partite, perché come diceva Francesco, i cambi azzeccati procurano dei benefici. I cambi azzeccati e i giocatori bravi a dare subito la risposta positiva. Luca? Oggi mi dicevo, poi ci metterei anche un pizzico di buona sorte, perché meglio un allenatore che ha anche un po' di fortuna, con due infortuni come quelli di Cominero e Palmiero, la bilancia adesso pende a favore del Toscana, nel senso che adesso c'è un grosso credito verso la fortuna. I giocatori fuori sono 4, due che sono già infortunati più due sono 4, non è poco. Un discorso che già era stato assimilato di Melegoni e Cioce, ma anzi, però sempre 4 sono. Sono sempre 4 e tutti sono importanti, comunque alla fine questa è una grande cosa che ha fatto l'allenatore. Poi visto che molti si lamentano della società, la società ha preso di grazia al costo zero, di grazia importante, ha preso, mantenuto Vitturini, Vitturini ha dato il suo contributo. Tutti quelli che arrivano tra male e bene fanno vedere di essere in grado di dare il loro contributo di una piazza importante come quella nostra. Ecco, su Vitturini, tu Francesco ci puoi dire anche qualcosa in più, ha avuto delle esperienze in Serie C non molto positive, anzi, affermo, già era andato meglio rispetto a Ciano. Per esempio, quell'anno, quello fu un anno particolare. Dipende dagli allenatori che danno fiducia a questo giocatore, perché è stato anche nel giro di Under 21, è stato uno dei protagonisti della promozione con Odo in A, ha esordito anche il Torino con la Juventus in Serie A. Infatti, Vivarini era criticato molto perché non faceva, ossia non faceva giocare, non diede proprio, non lo prese mai in considerazione. Allo scorso anno però è dovuto scendere in Serie C, andare a Fano, quindi ha fatto anche dei sacrifici perché poteva starci, voglio dire, in Serie B. Quest'anno, evidentemente, anche lui ha sentito la fiducia dell'allenatore. Ieri ha vinto la concorrenza con Ciofani, che è un giocatore esperto, e con Zappa. Significa poi che se Zaurio l'ha fatto giocare, vuol dire che il ragazzo lavora bene, si impegna tantissimo durante... E' stato, guarda, al di là di Vitturini che io conosco ormai da tanti anni, e che quindi so che è come tu hai detto, perché è veramente uno che quando vengono è sempre pronto. E mi sono meravigliato anch'io quando a Teramo non ha mai giocato, è scesa a Fano, però anche di famiglia sono persone molto serie, molto pacate, ha un'educazione pazzesca il ragazzo. E questo, secondo me, questa umiltà l'ha portato poi ad affrontare le partite comieri con una tranquillità, perché la cosa che mi piace di Vitturini è che sei molto tranquillo, al di là di alcune... E' un professionista. E' un professionista. E devo dirti che Dudy è entrato in campo e ti dico la verità, mi ha lasciato veramente a bocca aperta, perché è entrato con una grande patronanza, appresi in mano la difesa. Un giocatore esperto. Sì, però appresi in mano sulla difesa, ha iniziato a gesticolare, a dire metti... Cioè, un giocatore di personalità, che è entrato e ha veramente fatto meno. Miglior attacco con sette gol è una delle peggiori difese, sono dati da non sottovalutare, sono indicativi, che ne pensate? Totò. Ma, secondo me no, anche perché vuol dire anche a Cosenza, non è che abbia rischiato tanto la difesa, ma anche la partita con il Pordenone, anche se il Pordenone al primo tempo è giocato sicuramente molto meglio del Pescara, non ha subito in maniera eccessiva, quindi credo che questo sia un po' un falso problema, non è che la squadra la vediamo sbilanciata, i gol che ha subito, l'abbiamo visto insomma, con farlo... Ma tu pensi che Zauri voglia una squadra più propositiva, più palleggio, cosa chiede secondo te che ancora non vediamo? Secondo me quello che non vediamo è quello che ti ho detto prima, la capacità di ripartire, di ripartire con incisività, con questo momento dipende un po', è una cosa che stavo già vedendo, il secondo tempo col Pordenone l'abbiamo visto, per quello credo, tra l'altro non va dimenticato che la prima partita di Salerno che è stata veramente brutta, diciamo così, la partita dopo abbiamo visto un Pescara cambiato per cinquundicesimi, nel frattempo adesso l'altra partita, è arrivato Vitturini, è arrivato Drudi, quindi voglio dire è ancora una squadra che in questo momento si sta assemblando in base a... Quindi un po' come per tutti intorno alla decima giornata si avrà un quadro un po' più lineare. Sì, secondo me, la cosa appunto positiva è quella di tutti questi giocatori che comunque sono stati alternati e messi dentro, che hanno sempre risposto, come diceva anche Francesco, in una maniera migliore, per cui io credo che comunque l'allenatore... E tu pensi, anzi voi pensate che la rosa venga utilizzata in maniera totalitaria? Sicuramente, questo già può essere una differenza rispetto all'esperienza Piloni, perché Piloni quello che si rimproverava era proprio questo, di puntare sempre, invece lui sta tirando fuori insomma, man mano sta tirando fuori quello che secondo lui è il meglio di questa squadra, senza condizionamenti voglio dire alla fine. Io per esempio per Vitturini, a me la cosa che sorprende a me di Vitturini è il fatto che sia stato mollato dopo quella splendida esperienza che aveva fatto a Pescara con il Conod e poi la successiva, è stato diciamo buttato via. Ricordiamo che in quel momento Vitturini era anche titolare dell'Under 21, questo ragazzo io non capisco quale sia stata la scelta di mandarlo fuori, anche per questo penso che sia stato un recupero molto ma molto importante. Certo, a parte con Pescarese no Pescarese ma poi se tu ti ricordi. Il papà? Di Vitturini, questo è un di più, no? Sì, quindi è bravo proprio come giocatore. No ma io credo che sia bravo, scusami, e questo è importante per il ragazzo. Credo che sia bravo proprio tutto di testa, se tu ricordi Enrico che lui fece le soldi a Novara che poi con la partita venne rinviata, lui tornò a Pescara perché aveva un compito in classe al liceo e poi si è rimesso a disposizione, anche questo voglio dire, la dice lunga su quello che è il carattere e la capacità e la tranquillità di questo ragazzo. Il Serie A non ruba l'occhio in allenamento ma in campo e in partita è tremendamente felice. Ieri in campo perfetto, veramente una applicazione straordinaria. In allenamento non lo so perché non esalta gli allenatori. Anche Oddo gli diede fiducia e poi se innamorò per il rendimento che ebbe in campo. In Serie A vincono i campionati le squadre che subiscono meno, in Serie B le squadre che fanno più gol. Siete d'accordo? No, è così. Non c'è da essere. Se lo dice Riccardo è così. È una verità. È una verità. Scusa, puoi ripetere? Che in Serie A vince il campionato la squadra che subisce meno gol, in Serie B la squadra che ne fa di più. Controlleremo i numeri tra poco. Non è proprio così. No, no. A Pesca siamo abituati così. Abbiamo vinto campionati facendo sempre molti gol nella storia. Anche Leone, Zeme. Non abbiamo mai vinto campionati speculando sul risultato. E poi che è il capo cannoniere soprattutto. Ti vorrei fare l'esempio del Carpi che è andato in Serie A facendo catenaccio e segnando pochissimo. Scusami. Lui adesso deve trovare qualche squadra che... Ma non ha vinto il campionato. No, vabbè, ci ho riflettuto un attimo. Insomma, questo fatto numerico è ancora prematuro per stabilire la proiezione, no? Io penso di sì, però è una cosa che ho visto con... Intanto ci fa divertire. Questo sicuro. Con il Pordenone, nel secondo tempo, nel momento che sono ripartiti, che hanno giocato la palla di prima, hanno fatto quattro gol. Quando sarà il primo tempo hanno faticato, molto leziosi. Senza togliere una punta e mettere un difensore. Questo sono... Io dico quello che vedo, che mi è piaciuto. La squadra è viva, si propone, ha dei giocatori di qualità e riesce a giocare in velocità. E con in velocità ha fatto quattro gol. No, ma il fatto giusto che sostiene Zauri è che bisogna anche adeguarsi alle varie situazioni. Ieri è una partita dove l'agonismo aveva, deve stare in partita, ogni gara, andrà anche nel vostro campionato femminile, ci sono delle situazioni diverse dove la vera squadra è deve adeguarsi, no? Potrei dire che ieri... Ecco, ieri avete, scusami se ti troppo, ti lascia andare, c'è stato il secondo turno di Coppa Italia, un pareggio. Poi nella ripresa però avete inserito Borrelli e De Leonardis, anche lì c'è un De Leonardis. Scusate, se è forno. È stata decisiva. Gol di Borrelli, seconda rete di Giulia Mari. La squadra sta crescendo? Sì, allora, noi intanto faccio i complimenti alla squadra avversaria di ieri, questa squadra che ha giocato per 60 minuti, posso dire tranquillamente che ci ha messo sotto, adesso al di là della nostra condizione e del fatto che non hanno giocato almeno 5 titolari, ma perché stiamo facendo un processo per arrivare al campionato al punto giusto. Venerdì le ragazze avevano fatte addirittura la forza, i famosi gradoni alla Zeman. Anche voi fate i gradoni? Sì, il nostro preparatore atletico, il nostro prof è uno zemaniano, quindi assolutamente. Però dico questo per il rispetto degli avversari, è anche vero che poi abbiamo dovuto tirar fuori un po' anche per un'ovvia figura, benché la Coppa Italia naturalmente non sia assolutamente un obiettivo e poi nel secondo tempo almeno un paio di elementi li abbiamo fatti entrare, non a caso, insomma un pochino la partita è cambiata, tant'è che abbiamo pareggiato. Quanto è diversa questa squadra dal primo anno? È abbastanza, perché finora, fino a ieri, quello che si vedeva in campo che abbiamo schierato è più o meno uguale, però poi insomma… Il mercato è ancora aperto? Il mercato non è chiuso e si riavverà a dicembre, però ho preso insomma 7 giocatrici nuove di cui… e poi insomma 3 o 4 elementi che sono proprio di fuori, che vivono qua, ma sono di Roma, Napoli, Ascoli. Cambiano le ambizioni in questa stagione o no? Non sarei uno sportivo se non l'incrociarsi le vite, però sicuramente sì, gli obiettivi sono diversi. Paolo, veniamo da te anche per darci degli aggiornamenti sulla vostra squadra, certo lì le esigenze sono diverse perché ci sono problematiche di strutture che l'anno scorso mi hanno condizionato nella parte finale della stagione, quest'anno ci auguriamo, poi avremo occasione di parlarne, di avere almeno una sede definitiva, fa tanto per voi. Come no, adesso noi iniziamo lunedì prossimo, riapro l'Ennaia di finalmente, in questo periodo qua queste due settimane ci divertiamo, giochiamo a calcetto, a basket, a pallavolo, cerchiamo di avere un po' di entusiasmo e ho fatto una scelta ben precisa di non andare a, come abbiamo fatto l'anno scorso per tre mesi, siamo andati in giro a Ancona, tutto l'Abruzzo, quest'anno qua voglio iniziare l'Ennaia, non voglio iniziare a girare. La squadra è una squadra giovane, che ha fatto molto bene l'anno scorso, deve azzerare totalmente quello che ha fatto. Dimenticare anche le cose positive? No, le cose positive, si vede, i ragazzi hanno apprezzato il lavoro che hanno fatto, sono migliorati, ma voglio che si azzeri perché bisogna lavorare, quest'anno sarà molto dura a riconfermare quello che abbiamo fatto, una squadra molto giovane e gli altri si sono rinforzati, ho grande fiducia se riusciamo a capire questo messaggio. Vedete, Paolo Malara è un tipo di allenatore che dà molta serenità, molta tranquillità, è vicino alla personalità di Zauri, anche lui non è allenatore che stressa, fra virgolette. Per la verità io l'ho visto in partita, è diverso. Sì, io l'ho visto in partita, non è proprio così calmo adesso, voglio dire. No, io ho visto l'episodio, la cosa, vincevano… Noi parliamo del lavoro anche settimanale. Sì, no, però è questo episodio che spiega il carattere. È una partita che hanno giocato a Pescara, mancavano 20 secondi alla fine, vincevano di tre gol e hanno perso una palla, si è imbestialito, ha cominciato a urlare. Probabilmente lo fa più quando le cose vanno bene. Sì, certo. Certo, è vero. Così fanno i grandi allenatori. Era un errore, insomma, un influente, per dire il carattere dell'allenatore. Lì è nostanzitore. Ma come carattere Zauri ti sembra più sereno? Mi sembra molto sereno, molto sereno, molto riflessivo. Voglio dire, credo che questo faccia parte del bagaglio del bagaglio, così come l'ha avuto lui, il bagaglio eccezionale da giocatore, con lo stesso Zauri, ha una lunga carriera alle spalle, ha giocato 300-400 partite, ha giocato in Nazionale, ha giocato Lazio, Atalanta, meglio di Piraccini. Sampdoria, voglio dire, questo contribuisca, insomma, a costruire l'allenatore che verrà. Allora, Andrea, abbiamo aggiornamenti? No, non me ne sono Enrico, perché si è ancora all'intervallo a Salerno, sempre 0-0 il parziale, si stanno giocando i secondi tempi a Torino e a Bari, sempre Torino-Lecce 0-1, Bari-Regira 0-1, nel Torino è entrato Zazza al posto di Benenguer per cercare la rimonta. Bene, andiamo in pubblicità, continuiamo a parlare di Zaro e anche della prossima sfida con Lentella, che è attualmente la capolista solitaria della Serie B. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre mille metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigi, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down & Step, Materassi Temple, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, Materassi e Biancheria, per sognare. Notti d'Oro, Materassi e Biancheria, per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945, in una piccola bottega artigiana, nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara la sede in via Spaventa, nella zona dello stadio triatico. Emilio e Alfredo De Florentis 085-66-021 Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia a Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30. Aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Adri, uscita a 14, direzione Pineto. Dal 1970, Time Rivestimenti offre compassione e professionalità, finiture ed interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it Ora 22 e 4 minuti, rientriamo in diretta per l'ultima fase. Costantini, ci sono novità dei posticipi? Assolutamente no, tutto cristallizzato prima della pausa pubblicitaria. Bene, Luca, quest'anno conti di divertirti di più? Vedi come è tranquillo lo studio, ci sono poche polemiche, per fortuna, perché quando la squadra vince, tutti belli. Conto di divertirmi di più sotto l'aspetto della qualità del gioco e direi altrettanto per quello che riguarda i risultati. Sono stati otti, quindi divertirmi altrettanto se non di più, ma meglio sotto il profilo del gioco perché questa squadra ha qualità tecnica. E qui siamo d'accordo, ma la seconda parte di quello che hai detto, io ci metto una firma, poi gli altri non lo so. Non va bene. Arrivare di nuovo ai playoff e rifare la semifinale, porca miseria. Beh certo, poi in tanto arrivo in semifinale, poi magari tocca a noi un po' di fortuna e arrivi in finale. Non arriva a riparciarsi i discorsi. No, no, ma per dire quello che hai detto, ossia sul fatto del gioco, sul fatto del divertimento, tutto quello che vogliamo. Proprio alla fine contano i risultati, ma siamo con il totale di lui. L'anno scorso le polemiche è tutto. Un po' di dubbi da parte dell'ambiente su questa squadra, sull'allenatore. Direi di sì. E perché? Ma perché il pubblico pescarese lo sai, si entusiasma soltanto quando ha veramente... No, non parlo del pubblico, il pubblico sta sempre vicino alla squadra, anche ieri a Cosenza. No, credo che Sauri si porti ancora dietro. Se non gli va bene nulla, chi se ne frega. L'etichetta dell'allenatore giovane che viene dalla primavera, che è costato poco, cioè le solite cose che purtroppo si ripetono a Pescara, anche senza considerare che poi è stata una delle fortune di questa società quella di puntare di volta in volta, di Francesca, Oddo, fino a Zauri, su allenatori che venivano dal settore giovanile. Però c'è sempre, non lo so, questa... Se tu non conosci bene l'allenatore, non sai se è un nome, eccetera, io ricordo che lo stesso Galeone all'inizio non è che fosse considerato, perché l'allenatore non aveva mai fatto la B, addirittura non aveva nemmeno fatto da calciatore, e c'era tantissima perplessità. E poi dopo, bisogna sempre far parlare il campo e non essere prevenuti nei confronti di quelli che vediamo. Tu, Francesco, pensi di divertirti di più? Senti, io sono sempre... Enrico, scusami, doppio pareggio del Torino, rigore di Belotti, e del Bari con Sabbione. A te. Il Benevento, Salire Tana Benevento è sempre bloccato. Sempre 0-0, ma non ancora inizia il secondo tempo. A te. Io sono combattuto da anni, mi diverto, lo spettacolo. È vero che di solito se una squadra gioca bene, può perdere una volta, due, ma le altre otto volte vince. Però poi alla fine quello che contano sono i risultati, ha ragione lui. Qui l'anno scorso, io e tanti altri, le critiche a Pilon, tutto quello che in quel momento andava detto, per quello che pensava ognuno di noi, proprio alla fine il Pilon con una squadra che non era partita per andare in Serie A. Siamo sinceri, è arrivata la semifinale, però certo, perdi il treno della finale. Non puoi sbuffare pure adesso, Riccardo. Ormai il campionato è passato. Semano non ti va bene, Pilon non ti va bene, quell'altro non ti va bene. Sto parlando con Riccardo Clingo, scusa ai telespettatori. Beh, vabbè, però insomma... Allora è vero, c'ha ragione lui, c'è spazio anche per i detrattori, anche per quelli che dicono, ma ora Zauro, ma ora quell'altro, ma ora quell'altro. Ci vuole un pochettino di pazienza e ripeto, quello che ho detto la settimana scorsa, se negli ultimi dieci anni, nella gestione Sebastiani, i risultati sono stati le due retrocessioni della Serie A, siamo d'accordo, ma non mi sembra che nella storia del Pescara, purtroppo, ci siano state tante salvezze in Serie A. Una, ecco, quindi punto, a capo. Il resto, ci sono stati campionati o vinti o giocate a alto livello come quello dello scorso anno. Punti, e quest'anno ci sono le premesse perché si possa dar vita a una stagione che dia delle soddisfazioni. Poi lo potrai vedere, e qui sono d'accordo con lui, quando dicono, poi lo vediamo strada facendo. Allora oggi alla Cremonese che devono fare? I microfoni li devono tirare. Ma saranno problemi della Cremonese, ma l'anno scorso che cosa hai fatto? Ma non hai fatto niente, sei andato in Serie A? No. Hai fatto tutti accontenti? Io no. Per me è un buon allenatore quello che mi porta in Serie A. Per me, Pilon ha fatto sì, un mediano, allora Pilon tra dieci anni, uno, non se ricorda nessuno, uno, due, quest'anno dove allena? Rispondi alla mia domanda. Non allena? Non allena, e allora? Perché non allena? L'anno scorso l'ho criticato tanto Pilon, però mi sembri un po' troppo... No, è una risposta a lui, non è che io ce l'ho con Pilon, lui dice che a me non va bene niente, io ti sto dicendo che il generatore lì critico nel momento in cui non fanno il loro obiettivo, cioè il Pescara... Ma perché che il Pescara ce l'ha fatto a chiedere in Serie A? Eh, cioè tu dici che io mi ingazzo a strillare, ma come fai a non strillare? Il Pescara l'anno scorso era partito... Ma scusami, perdonami, ha fatto tutto il campionato quasi in testa, ma cosa dici? Perché non ci devi credere? Ma chi te l'ha detto che non ci credeva? Ma quando ti ricapita come l'anno scorso, quando ti ricapita come l'anno scorso, la possibilità di andare in Serie A, se hai fatto l'anno scorso primo, secondo, terzo, e poi non gliel'hai fatta arrivare primo, secondo, terzo, vuol dire che non avevi le risorse... No, non glielo continuerà a pensarla come vuole... Ma va bene, però non è vero... Non è vero delle cose che è improponibile... Ma non è vero... Non ho detto che se non vinci sei un fallito, no, ho detto che non te lo ricordi, no, non è che è un fallito... No, hai detto che non hai fatto niente, non vinci, tu queste cose le dovevi dire, quando è arrivato il pillone dicevi, no, quando è arrivato, dicevi, ma questo qua non vince niente perché l'abbiamo preso, allora è un discorso... Ma no, è capace un bambino a dire alla fine, no, perché il ragionamento stai a fare... Ma stiamo parlando, stiamo analizzando le situazioni di un anno scorso... Stiamo analizzando la stagione in cui è in testa e pre-op, e allora qual è il progetto? Ma che gli distronzate sono, dai, scusa... Credo poi che siano altre problematiche, a parte il risultato che alla fine è stato positivo, anche se c'è l'amarezza di non essere andato in Serie A, ma le negatività sono state forse sulla qualità di gioco, sull'impiego non totale della Rosa... Forse non faceva giocare del sole... No, queste critiche... No, queste critiche... Ma le negatività sono state forse... Allora... Allora... E altri giocatori, quindi l'anno scorso... L'anno scorso... I difetti poi ce l'hanno tutti, perché se non ha giocato Sottile, se non ha giocato Fettella... Allora le altre squadre, scusami se tiende Roma, ma le altre squadre che partono con un'ambizione che devono fare? Si devono dare fuoco... Quindi stiamo discutendo se durante l'anno uno preferisce apprezzare una squadra sulla qualità di gioco oppure accontentarsi poi... Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Ma rispondimi! Non ho detto qual è la qualità del gioco... Non abbiamo fatto un tiro a fuori aria... Giocavamo solo su Mancuso... Avevamo uno schermo in attacco, uno schermo in difesa... Ma dai... Sentiamo un allenatore e poi sentiamo il presidente... Paolo Malara... Spiegateli che io sempre... Ma io non... Paolo Malara, scusami Francesco... Fammi sentire... No, sono arrivati terzi e sono arrivati in semifinale di play-off... Quindi secondo me... Puoi criticare una filosofia di gioco... Perché secondo me... Per me... Quando avevo visto la finale di ritorno... Ho iniziato da primo al secondo... A perdere tempo... Ma... Forse... Però... Siccome non è il mio sport... Guardo, osservo... Per avere un'idea personale... Non sono d'accordo con lui... Perché di calcio... Non dico quanto la parla a nuoto... Però sei un tentatore... Seguo anche altri sport... Interviste... Cosa dicono gli elettori... Questa quella pagina finale dove si poteva fare meglio... Esatto... Forse questo... Però... Ha fatto un grande lavoro... Non sono d'accordo con lui... Se un allenatore... Non vince... Non è capace... Il secondo... È il primo degli ultimi... E... Nessuno si ricorda... Questo di sicuro... Ma... Non... Non vuol dire che non è... Non è... Non è... Non è capace... Certo... Noi abbiamo perso... Abbiamo perso... Quattro a tre... Però lui contesta... Credo... Non è il risultato finale... Sì... Noi ci auguriamo che la filosofia... Io... Così... Che è una filosofia diversa da Pilon... Eh... Di Zauri porti... Il bel gioco e dei risultati... Forse se... Se riesci a... A fare dei risultati... Porta entusiasmo... Riescono... Scusate... Mi fai rispondere però... Riescono a... Piano piano... Sono due filosofie diverse... Pilon comunque è riuscito con la sua filosofia... Arrivare terzo... Sì... A creare... Un suo... L'ambiente per quello che... No... L'ambiente... Ecco... L'ambiente... Non è così... Non è così... No... L'ambiente non era foro dell'allenatore... L'anno scorso... Non è così... Ma no... E' questo che io voglio appuntare... Non è così... Perché ti faccio nomi con i nomi... Di chi era scontento l'anno scorso... Ma certo... Guarda... Io so parlando dell'ambiente... Giocatori... Giocatori... Giocatori societali... All'allenatore... Ti rispondo all'allenatore... Normale che veni... I giocatori nel calcio... Nella pala nuoto... Chi gioca di più... Chi gioca di meno... Saranno... Più pro... All'allenatore... Chi contro'allenatore... Questo è fuori dubbio... Se ieri... Ho visto la domenica sportiva... Guardi... Inquadrano dei giocatori della Juve... Che guadagnano delle fortune... Sono tutti nervositi... E non sarà sicuramente pro-Sarri... Saranno contro-Sarri... Ma come può essere... In tutte le squadre... Questa è la normalità... Di un allenatore... Ah... Il allenatore... Lo prendi... Perché ha delle sue convinzioni... Ha... Ha la sua mentalità... La sua filosofia... Vede un giocatore... E non vede l'altro... Noi parliamo adesso... Così... Sarri... A Napoli giocavano in 13... Non di più... Adesso... Magari... In 20... Però... O cambia... Ognuno poi... No... L'esperienza... Ognuno... Come? E' proprio quello che non ha fatto la cosa... Ma lui ha la sua filosofia... Ma sarà la giurizia di Juventini... E' quello che c'è da Sarri... Che criticava l'Allegra... Presidente... Ieri... Ieri sera dicevano... I sondaggi... Allegri... Sarri... Tre partite... Due partite... E' la folia... Uno ha una filosofia... Uno nell'altra... Uno ha fatto... Dei grandissimi risultati... E' un grandissimo allenatore... Adesso ce n'è un altro... Puoi fare sempre dei paragoni... Con Tizio Cazzo... Ci sono sette segnati... 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 Io sorridi... No io... Tu sei per Zeman e basta no? Chi? No dai... Non scherziamo eh... Ormai è un ex allenatore... Credo che il discorso di Riccardo... Anche questo... Se lo chiamano... Se lo chiamano... Come no? Se lo chiamano... Ah lui si... Ma chi lo chiamano? Spero che non si sia ancora... Non si sa mai nella vita... Presidenti... Che lo chiamano... Gli dice a Luca Pernese... La proposta... Che fra 150 anni... Quando nessuno di noi ci starà... Se il calcio... Come dovrebbe essere... Ecco... Esiste ancora... Esiste la storia... L'almanacco... Eh... A volte era mai... Adesso con internet... L'almanacco... Che ci sta scritto... Pescara promosso in Serie A... Allenatore... Zeman... Punto... Andiamo avanti... Poi... Pescara allenatore... Oddo... Galeone... Galeone... Però... Galeone... E... Anche a Udine... Galeone... Perugia... Quindi sono... Eh... No... La proposta di gioco dell'anno scorso di Zema... Di Pilon... Era povera... Basata su... Nello sfruttare le qualità individuali di Mancuso che ha vissuto il suo anno magico... Ha firmato 19 gol... E poi nella... Nel conservare questo patrimonio... Quest'anno l'auspicio è che... Zauri... Ci proponga qualcosa di meglio... Il calcio più propositivo... Ci sono... Il calcio più propositivo... Il calcio più propositivo... Quest'anno... Un esterno ha già firmato... In tre partite... I gol... Firmati dagli esterni... Nello scorso anno... L'anno scorso sugli esterni... Sono stati realizzati tre gol... Due da Del Sole... Uno da Sottil... Con un esterno che ha fatto... Quaranta partite... Firmando zero gol... Che... Non c'è più... Presidente... Una sua idea... Io amo il calcio propositivo... Per quanto mi riguarda... Però... Alla fine... Devo fare i conti con i risultati... E... Sposo la filosofia... Di Paolo... Perché comunque... Ha fatto il suo lavoro... Con la sua filosofia... Piloni ha fatto un... Un... Un gran lavoro... Poi... Purtroppo... Negli annali... Non c'è entrato... Siamo tutti delusi... E questo è un altro ragionamento... Però... Eh... Poter dire... Cioè... Poter affermare... Che non ha fatto il proprio lavoro... Con la sua filosofia... Non è così... Perché... Insomma... Quindi il suo allenatore... È già stato avvisato... Prima risultati... Con un gioco propositivo... Purtroppo quest'anno... Come purtroppo? Sì... Purtroppo perché? Lo sanno... E giovedì farò un'altra riunione... Del genere... Non ci possiamo nascondere... Quelle filosofie che c'è... Ah... Giovedì vengo anch'io... Che è un pescarese... Allegri... Allegri... Mi sembra di aver letto... Qualche mese fa... Filosofie che alla fine... Conta quello che è il risultato... E la classifica... Poi lo puoi giocare bene... Qua, là... Però se la classifica... Non c'è... Non c'è... Perché noi siamo... Noi viviamo di risultati... Giovedì vengo anch'io... Allora... Posso aggiungere... Quello che sembra... Soprattutto ingeneroso... Questo atteggiamento... Le confronte di Piloni... Ricordiamo tutti... Che l'abbiamo criticato... Certo... Per il fatto che... Però... Per finire... Cioè... Buttar via... Questa stagione... Come che lui sia stato... Il più asino di tutti... No... No... Ma dillo... No... Insisti tutte le volte... Insisti... Non ha vinto niente... Non ha vinto niente... Zero titoli... E' ingeneroso... Generoso... Perché... Comunque... C'è lavorato tutto l'anno... Quindi... Non ha vinto niente... Ogni anno... Tre allenatori... Vincono... E tutti gli altri... Possiamo buttare nel cesso... Perché non hanno vinto... Guarda che... Tra il buttare nel cesso... E riconoscere dei valori... C'è... Della differenza... Io non ti sto dicendo... Che Piloni è da buttare nel cesso... Ti sto dicendo... A... Che quest'anno non lo sta allenando... E purtroppo per voi... E' una fesseria... 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 Perché quando è venuto qua a Pescara... Non allenava... Guarda a casa e venuto a Pescara... Ma di chi stai a parlare... Ma perché devi insistere... Su queste banalità... Fammi capire... Non è banalità... E' una banalità... E' una banalità... E' una banalità ingenerosa... In più... In generosa... Secondo... Perché facevamo un gioco... André... 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 Continuo a suffragare la tesi... Di... Di mister Paolo Marara... Perché... Poi ha sottolineato... Che... Ha... Diciamo... Apprezzato... Il lavoro che ha fatto Piloni... Fino all'ultima giornata... E non ha condiviso... Dal primo minuto... Dell'ultima... Fatifica partita... Come ha impostato... Quella gara... Può darsi che lui ha preparato la partita... Poi pensava... Con un atteggiamento... La sua filosofia è di portarla a terra... Esatto... Io dallo spettatore... In tribuna ho guardato... E' quello che ci siamo detti tutti... Poteva... Esattamente... Lì ha sbagliato... Diciamo... Poi con quella... Assolutamente... Lì ha sbagliato... Lì ha sbagliato... Esatto... Che fanno tutti gli allenatori... Però dico... Era arrivato fino a lì... E' chiaro che dopo ha pagato anche lui... Non ha fatto risultato... D'accordo... Ma fino a lì... C'era arrivato... Vabbè... Ora guardiamo avanti... Stava quasi per averlo dietro... No... Si deve guardare sempre avanti... Ehm... Sabato c'è questa partita con Letela... Poi il turno infrasettimanale a Cittadella... Poi con il Crotone... Insomma... Piano piano... Ci avviciniamo un po' a conoscere... Eh... Le squadre... Guardiamo... La classifica... Ma solo per curiosità... Perché la classifica... Come ribadiamo ormai da anni... Comincerà a pesare... Da febbraio... Da marzo... Ora... Solo per fare... Dei discorsi... Eh... Statistici... Letela... Il gol... Messi a segno... Ha vinto tre partite per 1-0... Si ritrova... Al comando... Poi c'è... La delusione del Frosinone... Come diceva Francesco... Cosa... Diranno questa sera a Cremona... A Frosinone... Alla Spezia... Dove hanno investito tantissimo... Livorno... Sì... Ma parlo delle squadre che hanno investito... Cremonese... Frosinone... Spezia... Chievo... Eh... La Serie B... Ci rovescia... I giudizi... In... Però il Vrescia... Lo scorso anno... Per 10-15 partite... Era in zona di retrocessione... Esatto... Ci rovescia... Inizierà direttamente... Quindi... Troppo... Però Vrescia parti male... Giusto... Vrescia... Cambiò l'allenatore... Malissimo... Cambiò l'allenatore... Sì... Cambiò l'allenatore... È l'entella che... È una matricola... Anche il Pisa... Del Pescarese... Luca D'Angelo... Sta disputando... Un ottimo inizio di campionato... Però... Non si può parlare... Già di sorpresa in positivo... E negativo... Il lavoro di Zauri... Secondo voi... Alla luce... Anche degli ultimi infortuni... Continuerà... A tenere d'occhio... L'intera rosa... Cioè... Non si fisserà sul gruppo... Così come è successo... Nelle prime partite... Anche se lo zoccolo... Sarà sempre quello... No... Sia con l'entella... Sì... Dei gol importanti in arrivo... Il Lecce... È di nuovo in vantaggio... Col neo entrato Mancosu... A Torino... Ma soprattutto... Il Benevento... In vantaggio... Scusami... Perché risulta sempre... Mauro Menussi è un amico di... Bene... Chi ha segnato per il Lecce? Eh... Ha segnato Mancosu... Appena entrato... Eh... E poi il vantaggio del Benevento a Salerno... 1-0... Rete di Viola... Quindi questo cambia la classifica... Del campionato di Serie B... Sì... La possiamo vedere la giornata... O no... Perché il Benevento... È d'altronde una delle favorite... Ha una... Ora il Benevento a 7... Scende la Sanitana a 6... Va beh... Ripetiamola... Lascia il tempo... Eh... Che trova... Però... Sembra meglio vincere... Mi ha fatto perdere un po' il filo... Comunque ecco... Zauri come imposterà il lavoro... Per le prossime gare... Perché Tuminello... Adesso abbiamo Brunori... Che sarà... Crediamo eh... Il titolare... Con le alternative di Maniero... E anche del giovane Borrelli... Che è stato in gol contro l'Inter... Peccato per la sconfitta... Dalla squadra dei Grottagli... Insomma... Non si può parlare... Di tornare sul mercato... Per l'attaccante... No Totò... Ma penso... Almeno fino a gennaio... Penso proprio di no... In questo momento... Appunto... Se servirà a gennaio... Magari però... Si resterà con Brunori... Maniero e Borrelli... Con Brunori... Maniero e Borrelli... Perché anche Borrelli... Borrelli è il giocatore... Il giocatore anche primavera... È importante... Sì sì... Però è un giocatore di qualità... L'abbiamo visto... No perché oggi si sentiva... Adesso dobbiamo tornare sul mercato... Per l'attaccante... Ma no... Ma sembra una fesseria... Si aspetterà a gennaio... Bisogna aspettare... Vedere un po' come funziona... No io quello che volevo dire... Della classifica... Se andiamo a vedere... Le squadre in questo momento... Che più brillano... Sono le tre... Le tre neopromosse... Pisa... Pisa... E Pordenone... Esatto... E Pordenone... Che stanno facendo meglio... Anche sul piano... Sul piano del gioco... Forse... Perché anche bene... Che ha vinto 4 a 1... 4 a 2... L'ultima partita... Tra l'altro allenata... Le tre neopromosse... Solo di Stabia... Sì... Esatto... Però queste qui... Come abitudine poi... Del campionato di Serie B... Stanno... Stanno emergendo... E quindi... Non dobbiamo guardare... La classifica... In questo momento... Per quanto riguarda il lavoro... Il lavoro di Zauri... Credo che lui... Quindi ripeto... L'attaccante si aspetterà... L'attaccante si aspetta... Per il resto... Credo che cominci a fare... Le sue scelte... Io ho parlato di Castro... Che a mio avviso... Diventerà un titolare... Che finora l'abbiamo visto... L'abbiamo visto... Come possibile... Come possibile titolare... Potrebbe essere Drudi... Se... Vedendo pure le condizioni di Campagnaro... Il recupero di Bettella... Quindi ci sono... Lo stesso Vittorini... Voglio dire... Prima o poi... Adesso lui farà delle scelte... In questo momento... Però gli alternerà... Poter contare su tanti uomini... È importante... Perché se... Questo per Zappa... Ne parlano tutti un grande Zappa... Quello che dobbiamo ancora vedere... Zappa... Può rendere Bettella... Drudi è affidabile... Bettella... Però sarebbe giusto avere fiducia a Vittorini... Dopo la partita... Certo... Ci sono tanti... Dopo la partita... Io non credo... Fai riposare Macini... No... Siccome è uno... Uno molto pratico... Io credo che insomma... Vada prea... Lo stesso Di Gracia... Una volta inserito... L'ha confermato... Voglio dire... Quindi... Non mi meraviglierei... Se confermasse Vittorini... Al di là delle condizioni... Di Balsano... E di Cioppoli... Balsano ne ha per 20 giorni... Quindi insomma... Poi bisogna avere anche questi delusinesi... No... Non se li riprendono i posti due esterni difensivi... Balsano e Del Grosso... Saranno destinati a guardare tante partite... Dalla... Riccardo... L'infrastrionale c'è martedì prossimo... A Cittadella... L'unico che fosse... E poi il venerdì con il Crotone... Quindi si gioca a distanza di... Anche lì... Anche lì vedremo dei cambiamenti... Magari anche in base... Su questo non hai dubbi... Che la Rosa girerà... L'unico che era un'alternativa... Forse è di grazia sinistra... E lì c'è l'alternativa... Non mi soffie... Invece il problema in questo momento... È la soluzione di Palmerio... Cioè chi gioca a Cosenza... Credo che l'abbia fatto Memushai... Sì... A quel punto si spostano un po' Memushai... E Castanossi... Castanossi non ha legge... Cioè in centrale lo può fare... O Macin... O Macin... Perché l'ha fatto pure... Ieri Castanossi... Ieri Castanossi... Ieri Castanossi... Andrea mi ricordi... Perché è un vuoto di memoria... Sull'esterno sinistro... Abbiamo Inglison... Come è Mezzala... Che ne parlano anche bene... Sì... Allora... Intanto sta recuperando Crecco... Che se non ho letto male... Oggi è anche rientrato in gruppo... Quindi a breve sarà a disposizione... Ed è un mancino... Quindi può giocare Mezzala... Proprio in quella zona del campo... C'è chiaramente Macin... Poi è in gruppo regolarmente Inglison... C'è Memushai... Chiaramente per il ruolo di giocatore davanti alla difesa... Ora che anche Bruno è fermo... Anche Bruno è da recuperare... Perché adesso... È da recuperare... Perché ha un problema agli adduttori... In quella zona del campo... Vabbè... Questi sono problemi di Zauri... Zauri... O anche Bussellato... Andrea... L'alternativa di Grazia... L'alternativa di Grazia può essere... Sul lato di sinistra... Cisco... Oppure Bocic... Ecco Bocic... Prima non... Non mi ricordavo... E anche Cisco... Che ne parlano un gran bene... Può giocare anche a sinistra... Lui è l'alternativa di Grazia... Tu vorresti avere problemi di abbondanza... Sempre no? Sempre... Ma secondo me farà... Farà giocare... Lo stesso Zauri ha detto... Io voglio avere solo problemi di abbondanza... Certo... Voglio scegliere liberamente... E tutti i giocatori che hanno giocato... Hanno fatto molto bene... Sicuramente... Farà... Farà giocare... Tu che sei ligure di questa Entella... Sei sorpreso o no? Una società seria... Che ha lavorato bene in questi anni... Si è retrocessa... È subito risalita... Non ha fatto nessuna polemica... Due anni fa... E questo... Penso che... Non partite da recuperare... Cioè... Sì... Alla fine... Penso che la società... No... Meritava di restare in Bile... Però... Esatto... Come dice lui... Società seria... Società seria... Un po' di bravo... Veramente... Raddoppio del Benevento... Con Sau... Dunque uno o due amici di Ale... Del Benevento... Lo sa... A voi... Lo sa... Lo sa... Lo sa... Lo sa... O non lo sa... E partita... Ovviamente... Difficile... Però Zauri... Sa cosa fare... No... Partita sì... Rentella è sicuramente una squadra che... Comunque la... Tre gol fatti... Zeri subiti... L'unica squadra che aveva subito... È un controllo attacco migliore... È una squadra... È ora che prende un gol... Pugne... Basta eh... Dicevi Totoso... Rentella... No... Gioca con 4-3-1-2... Con... Con Scappini... Che... Ci ha messo in difficoltà... Anche in altre occasioni... Dietro le punte... È una squadra abbastanza solida... Comunque è una squadra che... Ha cambiato poco... Schenetti... Schenetti... Scusami... Che giocava con la... Ogni sfuggio niente... Con il Cittadella... Con il Cittadella... Un almanacco... Un almanacco del calcio vivente... Quello dicevo... C'è messo in difficoltà in passato... Con il Cittadella... Se ti ricordi... Allora... Siamo in chiusura... Presidente... Grazie per averci scelto... Aspetta... Cosa possiamo promettare... Dichiarazione di me... Cosa bolle in pentola... Nel calcio femminile... Perché... Si sentono... Dei rumor... Per un ampliamento... Sì... Praticamente... Non ce lo voleva dire... No... No... Vabbè... Abbiamo parlato giustamente... Della maschile... Che... Però sbaglia... Perché c'è molto interesse... No... In tutte le trasmissioni... Io sono venuto a posto... No... In tutte le trasmissioni... Ci sono giocatrici... Allenatrici della nazionale... C'è molto interesse... Noi stessi abbiamo... Tanti... Cosa bolle in pentola... Che siamo in chiusura... No... Abbiamo preso... Praticamente abbiamo fatto... Già fatto un'iscrizione... Di un'altra squadra... Nel campionato... Si chiama eccellenza... Sarebbe come una serie D... Inferiore... Noi non faremo classifica... Naturalmente... Perché... Non avrebbe senso... Come la Juve B... Esatto... E anziché andare... Non fa classifica la Juve... Qui non si può fare... Non si può fare... Perché poi non potresti vincere il campionato... E andare... Insomma... Sarebbe complicato... Comunque... È già una regola scritta... Ma... Per noi è importante... Perché aumentiamo... Insomma... La rosa di tante ragazze... Possono... La squadra con la stessa matricola... La riscrizione è sempre con la Delfino Pescara Calcio... Esattamente... E poi... Una giocatrice... Per esempio... Infortunata... Se deve recuperare... Può giocare qualche partita... Come se fosse una primavera... Gioca magari... E si rimette in forma... O come qualcun'altra... Magari... Della squadra è... C'è una necessità... C'è un limite di partite... Però che si possono disputare... No... 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 Solo... Di età... Una di 14 anni... Ma... Finora abbiamo fatto due partiti di Coppa Italia... Sempre titolare... E bravissima... 14 anni... Una nostra baby... Che... È titolare... Ho detto tutto... Quindi le iscrizioni sono ancora aperte? Ma... Per... No... Iscrizione ai campionati? No... No... Parlo di una giocatrice che vuole... No... Adesso è tutto... Cioè... Fermo... Prestiti o quant'altro... A dicembre... Come maschile... No... Per questa squadra in Serie D... Se una vuole... Ah... Sì... Sì... Perché ancora non inizia nulla... E... Possiamo tesserare... Sì... Sì... Tesseramento è aperto a chi vuole... Assolutamente sì... Infatti stiamo reclutando altre ancora... Sì... Riccardo si propone per... Fare un po' l'osservatore... No... In questi campionati... Sono troppo amico con Andrea... Ha tanti anni... Andrea... Chiudiamo il collegamento dalla regia? Chiudiamo il collegamento... Dicendo che... Il Benevento in Serie B... È sempre avanti 2 a 0... Ricordiamo le reti... Sessantaduesimo Viola... Sessantasesimo Sau... Ma il... Siamo nel corso del secondo tempo... Siamo a metà della ripresa... A Torino invece quanto manca? A Torino mancano pochissimi minuti... Lecce avanti 2 a 1 sul Torino... Siamo invece al novantesimo a Bari... Sempre 1 a 1 tra Bari e Regina... Nel posticipo dei Serie C... Attende... Bene Paolo... Con te ci risentiremo... Prima del campionato... Che inizierà a novembre? Sì... Quindi avremo occasione di... In bocca al lupo... Intanto per questo lavoro... Di pre-ritiro... Grazie Francesco... Grazie a Totò... Grazie a Luca... In bocca al lupo a Andrea... Anche con te ci risentiremo... Presto... Grazie a Riccardo... Ringrazio Andrea Costantini... Maurizio D'Agui in regia... Loris De Nato... La GT Fatto Video con Stefano Reganati... Ancora un in bocca al lupo... Da tutto lo studio... A Tuminello... Ovviamente anche a Palmieri... In bocca al lupo al Pescara... Per la partita... Grazie per averci scelto... Grazie a tutti... Grazie a tutti...